era il 2005 quando morì aveva appena 23 anni quel tumore che lo colpì mentre era in missione in bosnia non gli diete scampo ora arriva il risarcimento per la famiglia di fabio senatore militare di nocera inferiore ad accordare la cifra alla famiglia del soldato è stato il tribunale civile di roma che con questa sentenza sostiene l'avvocato angelo fiore tartaglia legale dell'osservatorio militare ha riconosciuto il nesso tra l'esposizione alle polveri di uranio impoverito e la patologia tumorale che colpì il giovane soldato il militare di nocera inferiore aveva trascorso otto mesi in bosnia erzegovina con l'incarico di fuciliere dal novembre 2002 al giugno 2004 poi la malattia e la morte secondo domenico leggero coordinatore dell'osservatorio militare il verdetto non lascia spazio a equivoci e dubbi il ministero della difesa ha affermato era conoscenza dei rischi a cui erano sottoposto i militari che hanno operato in territori bombardati con uranio impoverito e qui nel rione calenda di nocera inferiore che ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza fabio senatore il militare morto nel 2005 a soli 23 anni dopo essere stato in missione in bosnia a distanza di più di dieci anni arriva per la famiglia il risarcimento è stato insomma accertato che quel tumore quella malattia è arrivata dopo il contatto con le polveri dell'uranio impoverito ed è in questo palazzo che viveva fabio fino a cinque anni fa qui al quarto piano c'erano ancora la madre maria e la sorella mariana che si sono poi trasferite in un altro quartiere di nocera inferiore intanto chi nel rione ci vive da tempo e quindi conosceva fabio lo descrive come un ragazzo riservato un bravo ragazzo e si dicono tutti soddisfatti per il fatto che almeno il risarcimento sia arrivato lo conosceva se si ricorda quando morì fu una tragica morte era il 2005 così sicuro veramente rimasto sconvolto tutto quanto stuaglione però non abitano più qua ecco fu una morte che davvero lascio tutti senza parole aveva appena 23 anni sì sì ricordiamo bene giusto che è stato pure riconosciuto ecco avete saputo la notizia si è già diffusa adesso sul giornale sì non sapevo niente ho letto sul giornale ecco non porta in vita fabio però sicuramente è un qualcosa di importante era giusto che succedeva così pure per i familiari per i familiari è uscita la verità e come era morto